Purtroppo mi è stato trovato un problema di salute, ma per fortuna è stato trovato con un grande tempismo, il che comporta un percorso, un percorso importante che dovrò fare e che mi sento anche di raccontare, non ora, non in questo momento, in cui ho bisogno di stringermi alla mia famiglia, ai miei figli. Mi rendi conto che in questi anni è come se avessi avuto in questa modalità di comunicazione una sorta di album dei ricordi condiviso e solo ora mi rendo conto dell'importanza magari di essere riuscito a strappare un sorriso dall'altra parte dell'apparecchio a qualcuno che magari stava affrontando un momento difficile perché quell'album condiviso in questo momento sarà anche la mia forza e servirà per strappare un sorriso a me.